Questa mattina a Castel San Giorgio, Salerno, Nocera Superiore, Cava dei Tirreni, la compagnia dei carabinieri di mercato San Severino ha eseguito 11 ordinanze cautelari personali emesse dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, crack, cocaina, hashish e marijuana, rapina a mano armata, lesioni ed evasione dagli arresti domiciliari commessi a Castel San Giorgio, Nocera e Salerno. Le indagini condotte dalla norma della compagnia di mercato San Severino hanno consentito di disarticolare un importante, ben congegnato e radicato meccanismo criminale attivo a Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Salerno. Le attività investigative hanno consentito di scoprire gli autori di una rapina a mano armata consumata in danno di un supermercato ubicato in Nocera Superiore, nel corso della quale i due rapinatori non hanno esitato a colpire più volte il cassiere con il calcio della pistola per obbligarlo ad aprire la cassaforte contenente 15.000 euro. Le misure cautelari odierne si aggiungono all'arresto in flagranza effettuato nei confronti di sei spacciatori sorpresi nell'atto di cedere a una sostanza stupefacente nonché al sequestro di 350 grammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, eroina, ascisce e marioana. L'autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro preventivo di due immobili in uso ad uno degli arrestati ed utilizzati come base operativa dell'attività criminosa.